Ciao amici, oggi vi mostro come passare da un file Excel con una serie di righe a n file PDF, dove ogni file PDF avrà il contenuto informativo presente in ciascuna riga presente nel file Excel. L'obiettivo era quello di gestire un evento, quindi partire da una lista di partecipanti e stampare dei moduli per ciascun partecipante in funzione chiaramente delle informazioni anagrafiche rilasciate dal partecipante. Però questo tipo di cosa che vi mostro oggi, questo piccolo sviluppo in Excel, si presta anche a altri scenari. Penso ad esempio a un amministratore di condominio che ha necessità di stampare per tutti i condomini degli avvisi in PDF e quindi in questo modo crea il tutto in maniera piuttosto agevole. Quindi partiamo un attimino dalla struttura del file. Ho strutturato di sicuro tutte le informazioni anagrafiche che mi servivano in colonne, quindi qua vedete informazioni cronologiche, numero partecipazione, numero test, rendirizzo email, cognome, nome, codice fiscale, telefono, comune, data di nascita e una serie di consensi. Queste sono tutte le informazioni che erano a disposizione nel momento in cui sono stati censiti, in questo caso i partecipanti. E un'altra cosa che serve preventivamente è il template da stampare. Quindi partendo da, come vedete in questo secondo foglio chiamato to print, sono riportate tutte le clausole o comunque le indicazioni che devono essere inserite all'interno del singolo PDF che verrà consegnato a ciascun partecipante a questo evento. Questa è sostanzialmente una sezione statica, mentre la sezione dinamica, cioè che cambierà ogni qualvolta, che cambierà per ogni partecipante, quindi avrà le informazioni anagrafiche in questo caso di ogni partecipante, e questa qui è riportata in alto. Quindi vedete, ci sono delle celle per tutte le informazioni anagrafiche che sono di mio interesse. Dunque, come passare da una riga in questo foglio a un file PDF per ciascun partecipante? Il tutto viene gestito da questo pulsante qui, crea PDF, e ho aggiunto anche questo campo perché stampa PDF sì, no, serve a discriminare le casistiche in cui ho già stampato un file PDF per il partecipante, quindi non mi serve crearlo, infatti qua vedete stampa PDF no, piuttosto che in questo caso voglio stampare il PDF per la prima riga, e quindi mettendo a sì questo campo qui, dopo aver premuto il crea PDF, viene generato un file per questa riga che ha sì in questa prima colonna. Tutto ciò viene realizzato come? Associando una macro alla pressione di questo pulsante. Passiamo sulla macro, così vi faccio vedere di cosa sto parlando. Questa è la macro, non lunghissima, prima però vi spiego i passi logici che sono contenuti qui dentro, rispostandomi sul file, poi entriamo nel merito della sintassi della macro. Che deve fare la macro che mi serve a produrre il PDF? Deve andare banalmente a leggere le informazioni presenti in anagrafica, quindi presenti su un rigo, riportarle dove mi interessa, quindi in queste celle qui, quella contenuto dinamico, dopo averle riportate mi serve che crei il file PDF e che imposti in stampa PDF a no, o la riga per la quale ha effettuato la vera e propria stampa. Quindi, passiamo sulla macro. Definisco un po' di variabili e imposto un ciclo, ciclo che scandisce tutte le righe presenti all'interno dell'Excel, quindi ciclo su tutte queste righe, e all'interno di ogni riga, che cosa faccio? Vado a selezionare la cella che contiene il valore di mio interesse, cominciamo per esempio qui, comincio col nome, le altre non mi servivano a riportarle nel file PDF stampato. Dunque, scelgo la cella che contiene il nome, copio il valore, mi sposto sul file della stampa, quindi quello che ha il template del file che voglio produrre, seleziono la cella in cui voglio incollare il valore, incollo, e poi ritorno indietro sul foglio precedente, quindi quello che ha l'anagrafica dei partecipanti, e vado via via a selezionare gli altri dati che mi servono. Quindi, tecnicamente che succede? Comincio a scorrere il file, questo primo foglio. Prima riga, recupero l'informazione di mio interesse, cominciamo col nome, copio questa informazione, mi sposto qui, vado sul nome, e la vado a incollare. Continuo, scorro l'altra colonna, cognome, codice fiscale, numero di cellulare, tutto ciò che mi serve, e le riporto pari pari in queste celle qui. E questo che vi sto dicendo è sostanzialmente quello che avviene da qui dove, se vedete, c'è un controllo iniziale, cioè viene verificato che il valore della prima colonna sia sì, cioè voglio stampare su PDF? PDF sì. Se questo valore è no, la colonna viene saltata, eh, pardon, la riga viene saltata. Dunque, sposto tutti i dati che mi, copio tutti i dati che mi servono sul template, e alla fine devo semplicemente stampare il template completo di tutti i dati che mi servono. Dunque, questo è il comando che mi serve per fare la stampa dell'Excel, e dopo aver fatto la stampa, quindi dopo aver creato il file, banalmente mi sposto sullo sheet dei partecipanti, quindi torno sulle anagrafiche, e imposto a stampa file no, questo valore qui. Dunque, vediamo qua un dettaglio, nome file, sono, diciamo, questa sintassi, beh, è un pochino, ve la faccio vedere, dipende dal comando specifico, no, che sto utilizzando, e per comodità, ho chiaramente definito nome file come un qualcosa che mi renda distinguibile i vari file prodotti, quindi sostanzialmente c'è nome e cognome del partecipante, è tutto qui. Come vedete, è una variabile che mi sono dichiarata all'inizio, e vi lascio un pochino così il, questa macro, in maniera tale che possiate vedere, appuntarvi insomma le logiche che ho utilizzato, qualora vi dovessero servire. poi, redatta la macro, come vi ho fatto vedere, è necessario creare questo pulsante, un pulsante sostanzialmente, qui l'ho chiamato crea file pdf, ma vi faccio vedere come si crea un pulsante, come si associa la macro appena creata, che è chiamata, si chiama, salva su pdf, la macro al pulsante si associa in questo modo, si va sul tab sviluppo, si inserisce un pulsante, e qui vengono riportate le macro presenti nel file, in questo caso è solo una, quindi salva pdf, ed è facile aggiungerla così, vabbè, niente di che. Dopo aver fatto tutto quello che vi ho mostrato, proviamo a osservare il risultato di tutto ciò, premesso, il file pdf viene prodotto nella stessa cartella in cui si trova il file excel, dunque, in questo caso voglio stampare la prima riga, quella di Mario Rossi, quindi dopo aver selezionato, dopo aver impostato questo campo, ah sì, come avete visto è un campo con una lista di valori limitata, c'è un altro video dove mostro come, impostare questo campo a tendina, vi rimando magari alla playlist del tutorial, fatto ciò, crea file excel, e vedete che nella stessa directory del, dell'excel, viene creato il pdf di Mario Rossi, e nel file, l'attributo della prima colonna è passato da sì a no, sì mi serviva per far elaborare la riga, avendolo impostato a no, se adesso provo a richiamare la macro, quindi ripremendo qui il pulsante, vedete che non succede nulla, andiamo a vedere il file excel, eh sì vabbè, il file pdf, è chiaro, erano valori un po' farlocchi, però come vedete, diciamo che assolve piuttosto bene all'uso che, per il quale era pensato questo tool, adesso vi faccio vedere la stampa massiva, in post, vabbè sono solo due, però vi assicuro che funziona pure con un numero, corposo di righe, metto entrambe a sì, e vedete che massivamente vengono create, vengono creati due file, quindi Mario Rossi e Giuseppe Verdi. Credo di avervi raccontato tutto, però al solito, se avete suggerimenti, dubbi o altro, lasciatemi le nei commenti, e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!